Sono state giocate oggi le partite di andata del secondo. Ed eccoci alle immagini di Lodz-Wizzef-Juventus. La Juventus è in maglia blu contro la formazione del Lodz che abbiamo visto andare in vantaggio con Grebosch. Ed eccoci al gol di Bettiga che ha ricordato un po' il gol segnato con il Lussemburgo. Qui siamo all'azione del terzo gol e Pieta, dopo il centro di Boniac, Pieta batte Zoffo. Ed ecco il gol del 3-1 segnato da Smolareg, il cross era stato di troppo.